allora ragazzi buongiorno buongiorno da riccardo di casparro signori in diretta dalla quarantena di roma e come sempre io entro in live ed esplode whatsapp ormai un classico ragazzi sono passati praticamente 19 secondi 19 secondi io mi sono connesso e sta esplodendo whatsapp vabbè ok vabbè ragazzi questo è quanto quindi buongiorno a tutti come procede nel frattempo che vi connettete la vostra quarantena come sta andando ragazzi tutto bene io mi sono tagliato i capelli da solo se notate e sono usciti anche bene tra l'altro senza specchio sono andato a memoria addirittura mi sono sfidato una sola mano ho rasato tutto lunghezza qui casino però è uscito ce l'ho fatta insomma ciao maria teresa buongiorno buongiorno alessandra laurea buongiorno antonella come sempre le donne regnano sovrane proprio un 4 a 0 secco agli uomini e donne scrivono sempre prima c'è incredibile ma che sozzo sto cosa a eccoli qua stanno arriva marco buongiorno buongiorno ciao simon miria laura buongiorno e siamo fermi tipo su un 8 un 8 9 a 3 eh pensavo ci fosse ci avesse pensato marty no guarda antonella in realtà nel frattempo che vi connettete volevo volevo tagliarmeli io quindi all'inizio ho avuto il panico psicologico poi subito dopo ho detto cavolo però c'è martina li faccio tagliare a lei allora li faccio tagliare a lei poi subito dopo ho detto no aspetta li faccio tagliare a lei però perdo l'occasione per provare una cosa nuova e allora li taglio io e quindi allucinante e alla fine mi sono lanciato io buongiorno anna maria cini buongiorno come stai ciao cristian buongiorno a tutti buongiorno a tutti sarah buongiorno antonella al taglio di capelli sì sì avevo capito stai per fare fuoco e fiamme con questa live sì sì a voglia assolutamente andrea ho delle cose importantissime da dirvi me ne sono segnate apposta tra l'altro oppure vuoi no vabbè no raga non mi rompete le parla adesso questa in diretta per favore e che stai dicendo buongiorno da padova patricia complimenti sinceri per il taglio di capelli anche io mi taglio da sola ok fantastico grazie grazie mille vedo che state già taggando e condividendo bravi questi training live che facciamo insieme gratuiti mi raccomando condivideteli sempre con i vostri distributori non fate i tirchi non tenetele solo per voi queste cose perché fidatevi che affrontiamo dei discorsi molto importanti interessanti che aiuterebbero aiuterebbe aiuterebbero chiunque ok ciao domenico come stai buongiorno a tutti ciao lorenzo bene bene vi siete connessi quanto tempo è passato tre minuti e trentacinque dai a posto ve l'ho dato il tempo per entrare adesso entriamo nel vivo a ps vedo che state prendendo di mira proprio anche youtube bravi a tutti quelli che si sono registrati nelle ultime 24 ore avete attivato la campanella delle notifiche perché vedo che le visualizzazioni stanno aumentando quindi bravi ok ciao a tutti ciao paul allora ragazzi guido bertolaso il signor bertolaso che è il gladiatore della protezione civile è sempre stato così praticamente lui lui è il gladiatore della sicurezza in italia ok chiamiamolo così dai perché ormai è una leggenda poi per prendere dettagli su di lui basta scrivere insomma su google guido bertolaso e vi esce di tutto in ogni caso è una persona che nell'ultimo discorso che ha fatto agli operai alla fiera di milano ha dimostrato veramente di avere una leadership mostruosa e una capacità di motivazione comunicazione davvero notevole e sono le classiche persone che poi l'italia la cambiano davvero e cambiano anche poi la vita delle persone perché hanno un atteggiamento talmente tanto forte e potente che impattano inevitabilmente il prossimo quindi chiunque entra in contatto con queste persone viene impattato e viene in un certo senso ispirato comunque a tutte le persone che ronzano intorno a questi personaggi epici riescono veramente a migliorare tanto e noi dovremmo puntare ad essere un po' nel network marketing come guido bertolaso perché fidatevi ieri ho pubblicato sulla mia fan page il suo discorso di tre minuti c'è una roba super fast ma in quei tre minuti c'è un concentrato di potenza di leadership di azione di determinazione di esempio che è una roba veramente mostruosa e per pochi e noi ogni volta che parlano questi personaggi dobbiamo imparare dobbiamo adrizzare le antenne ok aprire bene le orecchie e imparare prendere da queste persone da questi personaggi che cambiano poi il percorso della storia perché questo è quello che fanno fa un freddo allucinante poi stamattina da voi come parte vedo che molte zone d'italia sta pure nevicando mi lamentavo sempre per il tempo che manca ora mi informa e mi alleno tutto il giorno oltre che occuparmi della casa anna maria esatto esatto come cambiano le abitudini ragazzi c'è assolutamente vabbè te anna maria sei un treno ma te non ti manca niente miriam buongiorno buongiorno riccardo tu non puoi capire invece da quanti ominidi è super criticato sì 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 ma capisco tanto anche dio è stato criticato ragazzi cioè pure dio è perennemente criticato gesù cristo chiamatelo come volete quindi le critiche ci stanno fanno parte del percorso e tutte le persone che impattano in modo importante gli altri vengono criticate nessuno può mettere d'accordo tutti ok cioè è così e sicuramente una personalità come guido bertolaso non è da meno cioè quindi attenzione che non sto facendo le cose che vi dico adesso non sono cose legate a discorsi politici capite non sto facendo un discorso di destra di sinistra lo sapete io quando analizzo prendo alcune personalità del mondo tradizionale ok del lavoro personalità che ne so leader capite cioè io cerco sempre di tirarvi fuori le informazioni che vi servono per la vostra attività perché sta luce mi dà problemi che ho una faccia gialla cioè perché queste cose mi devo spostare così adesso dietro si vede bianco cioè io boh non lo so ragazzi quindi cercate di prendere il buono in termini di leadership e di esempio ciao nicola come stai te con il tuo super hai aperto un'attività nuova per gli animali vorrei dire una cazzata nicola perdona se sto sbagliando ok però mi sembra che ti sei messo in proprio con la tua attività dedicata al gli animali e cosa del genere che manuel desidera connettersi con te su messenger arriva ancora vedete anche in diretta maledizione sono contento così ve le dico in diretta tutte queste cose quando qualcuno si lamenta che non rispondo e allora a romestre si vedono i pinguini va interessante negozio negozio di famiglia ah ok però è per gli animali per il mondo animale mi confermi nicola comunque nicola è una persona di cuore ce ne sono poche di persone come nicola in giro si ori anzi nicola se metti pure l'inca il tuo negozio che se qualcuno vuole comprare cose da una persona di fiducia almeno vengono da te sono contento allora ci sono dieci cose che io ho preso ok dall'intervento di guido bertolaso dieci cose io adesso ve le analizzo ve le spiego velocemente ma fate molta attenzione perché sono cose che possono essere portate nella vostra attività di network marketing ma sono cose che potete incollare alla vostra vita a 360 gradi perché riuscire a comportarsi in questo modo anche nella vita di tutti i giorni vi posso garantire che fa la differenza poi tra condurre una vita di m una vita di qualità buongiorno a tutti allora prima cosa che mi sono segnato anche le iscrizioni in community news queste cose aggiornamenti ho alle spalle milioni di ore di lavoro solo una volta mi sono detto e mo che faccio in questa frase lui ha voluto trasmettere serenità tranquillità sicurezza agli operai a tutte le persone che lui in quel momento tutte le persone che stavano che lo stavano ascoltando quindi gli ha voluto dire state tranquilli perché io non ho praticamente mai avuto difficoltà in questo tipo di lavoro quindi sono una sicurezza per voi voi potete lavorare tranquilli state tranquilli che andrà tutto bene sul serio perché ve lo dico perché sono qui perché mi faccio sentire e perché ho un'esperienza comprovata sul campo da tutto quello che ho fatto quindi milioni e milioni di ore veramente perché lui è tra i più esperti in assoluto in sicurezza tutta sta roba qui protezione civile tutto ciò che riguarda insomma questo discorso quindi lui ha aperto proprio così o alle spalle milioni di ore di lavoro solo una volta penso penso l'ha messo pure in dubbio mi sono ritrovato nel dirmi e mo che faccio questo è fondamentale voi come comuni come comunicate voi alla vostra squadra ai vostri colleghi ai vostri collaboratori vi mostrate sicuri vi fate vedere che siete sicuri di quello che dite di quello che fate come vi fate vedere davanti ai vostri distributori ai vostri collaboratori come vi mostrate tentennate guardate che questa è una cosa molto semplice quanto importante altra cosa se c'è ha detto proprio questo ce l'ho qui mi sto segnando tutto se c'è qualcosa che non funziona me lo dite se c'è qualcosa che non funziona me lo dite qui entriamo nel campo dei positivi a tutti i costi di quelli che di quei leader che non gli si può dire niente di negativo perché devi pensare positivo devi stay positivo e devi stay incredible e il putere della mente cioè raga nel mondo del business nel mondo degli affari e anche in questo mondo protezione civile problemi sul campo coronavirus non va sempre tutto bene ci sono anche delle cose che magari ogni tanto vanno meno bene e bisogna parlarne di queste cose perché un problema identificato è un problema mezzo risolto e non lo dice riccardo di gasparro un problema identificato è un problema mezzo risolto ma se noi sto problema non lo identifichiamo come cacchio facciamo a risolverlo quindi se c'è qualcosa che non funziona lui ha detto me lo dite non ci non dovete avere problemi io sono qui pronto ad ascoltarvi un leader dovrebbe comportarsi sempre così con i propri collaboratori soprattutto nell'industria del network marketing che è un'industria complessa articolata che spesso e volentieri presenta tanti problemi perché con lo stare perennemente stay positive stay incredible tutta sta roba qui questo mindset proprio tarato in modo falso perché non va sempre tutto bene nella vita in generale cioè rischiate di bruciarvi collaboratori rischiate anche di andare sulle palle a tanti perché se siete leader che con voi se non si può parlare delle cose che non vanno i collaboratori poi si trovano si ritrovano da soli stanno da soli non sanno più a chi affidarsi diventano insicuri si incattiviscono non vi parlano più il rapporto si danneggia ed eccolo lì che poi non funziona più l'attività e magari uno se ne va a destra e uno se ne va a sinistra tutto chiaro quindi in questa semplice frase ripeto poi ha fatto un discorso di tre minuti c'è una roba mostruosa in tre minuti ha comunicato tutta sta roba ovviamente un pro se c'è qualcosa che non funziona me lo dite punto altra cosa ci vuole la gerarchia allora il discorso della gerarchia anche molto importante io capisco che nel network marketing siamo tutti abituati rispetto insomma non abbiamo capi tutti facciamo come ci pare però dovete sapere che bisogna mantenere una certa dose di gerarchia anche nel network marketing cioè capire che c'è una linea in upline che ci sono delle qualifiche con ognuno ha il suo ruolo questo questo concetto aiuta a mantenere calme le acque perché se poi nella nostra organizzazione tutti fanno come gli pare tutti vanno a destra a sinistra non si sa che cosa succede quello si sposta sotto quell'altro quello litiga con quell'altro quello infama quell'altro cioè capite bene che non se ne esce più quindi comprendere anche il discorso gerarchico è importante per il benessere di un'organizzazione in qualsiasi organizzazione ragazzi è un capo non network marketing non si chiama capo si chiamano leader ma per dire in qualsiasi organizzazione di lavoro il mondo della crescita personale cioè c'è un ceo c'è un fondatore c'è un capo un boss tra virgolette in modo simpatico lo chiamiamo che gestisce tutta la baracca poi ci sono i collaboratori migliori che hanno più poteri rispetto a tanti altri fino a scendere sotto ok ma ognuno deve rispettare il suo ruolo ognuno deve stare al posto suo quando lui ha detto ci vuole la gerarchia c'è la gliel'ha voluto comunicare e nel mondo del lavoro soprattutto dove i discorsi di leadership vengono fatti troppo poco spesso ok lui sapeva già che doveva comunicare questa cosa per farsi ascoltare cioè ragazzi se c'è qualcosa che non va me lo dite ma c'è una gerarchia che va rispettata cioè non potete fare come vi pare non è che qualcuno arriva qui e poi mi insulta o mi sottovaluta cioè questo è stato il messaggio che guido bertolaso ha voluto comunicare agli operai della fiera di milano questa è una roba molto importante che noi possiamo prendercela anche nell'industria del network marketing ma ripeto questi concetti poi potete applicarli a 360 gradi in tutta la vostra vita in tutti i vostri business in tutti i vostri lavori cioè sono veramente discorsi importantissimi quindi la gerarchia va rispettata c'è una gerarchia anche nel network marketing sì perché perché le persone non sono abituate all'inizio ad ascoltare la leadership a sentire tutti questi discorsi leader i sogni la pnl la cosa cioè le persone vanno indirizzate e soprattutto con gli italiani questi sono discorsi che vanno approcciati in un certo modo vanno presi sul serio ok perché gli italiani spesso e volentieri non ascoltano sapete io sono dell'idea che l'esempio non sempre funziona con le persone nel mondo della leadership si dice l'esempio è l'arma più potente che tu puoi donare ai tuoi collaboratori ma spesso e volentieri l'esempio con gli ominidi non funziona perché tanto so decoccio e serve il bastone e non la carota una forma di bastone di leadership il bas la bastonata di leadership è questa cioè fate lui ha fatto presente raga ci vuole la gerarchia c'è rispetto io vi rispetto ma sappiate che ognuno deve stare al suo posto quarto punto parlate senza avere paura che poi qualcuno si vendichi su quello che mi dite spesso e volentieri anche nel network marketing si ha paura di parlare delle cose che non vanno perché molti hanno paura di essere etichettati come rompipalle o hanno paura di ritorsioni da parte di qualcuno di una play di una cross line cioè raga non dovete aver paura cioè quanto meno il vostro leader di riferimento dovrebbe dirvi non parlate senza avere paura senza avere paura che qualcuno si vendichi di quello che avete detto non avete detto perché ci sono io sarete difesi da me io mi metterò in prima linea per combattere eventualmente queste persone che vogliono darvi addosso ok lui l'ha voluto proprio comunicare siccome qui stiamo facendo dei lavori assurdi nella fiera di milano non abbiate paura timore di dirmi se c'è qualche collega che sbaglia a costruire qualcosa o non fa il proprio lavoro fatto come si deve o fa come ti pare o manda quel paese qualche collaboratore non dovete aver paura perché io mantengo io ho le redini in mano di tutta la situazione di tutta la baracca ok altra cosa vogliono no voglio vedervi sempre qui al lavoro anche questa è un'altra cosa estremamente importante lui gli ha detto raga io sono disponibile io vi rispetto vi ascolto però voglio vedervi lavorare cioè dobbiamo prenderci sul serio non esistono banchetti e macchinette del caffè tavolini per fare pranzo ascoltatevelo il discorso qui non c'è tutta sta roba si lavora perché stiamo lottando per qualcosa di grande e la nostra missione è incredibilmente importante quindi mi raccomando qua si lavora voi come potreste trasmettere questo messaggio nella vostra rete di network marketing comunicare in modo diretto e trasparente con i vostri collaboratori io per esempio sono uno che lo dice spesso a quelli che vedo che fanno un po come gli pare cioè lo dico guardate che con me si lavora in un certo modo e io non amo seguire persone che mi fanno perdere tempo ma non lo dico perché voglio sembrare cattivo voglio fare il cattivo lo dico per trasmettere il valore della collaborazione lo dico per trasmettere il valore di tutto il valore del valore di tutto quello che riusciamo e che possiamo creare insieme avete agganciato il discorso è molto importante comprendere queste cose poi altra cosa che ha detto se c'è qualcuno che non fa nulla gli tiro le orecchie anche qui questo ovviamente nel mondo del network marketing non è che può essere copiato incollato perché un bravo leader non è che dice così le cose ai collaboratori se non lavorate vi tiro le orecchie ovvio che nel mondo del network sta roba non è che funziona più di tanto però dovete potreste cercare di adattare anche questa frase alla vostra attività ok ho sta faccia che mi diventa gialla cioè io non capisco perché vabbè avete avete agganciato altra cosa importante questo sarà tipo il settimo punto sono esigente perché questa era perla assurda sono esigente perché il numero uno deve sempre dare l'esempio cioè nel network marketing vogliamo diventare tutti leader vogliamo fare tutti i leader vogliamo tutti essere sul podio vogliamo tutti essere sul piedistallo vogliamo tutti essere acclamati vogliamo tutti essere applauditi riconosciuti ma non siamo disposti spesso e volentieri a comportarci da numeri uno sono esigente perché il numero uno deve sempre dare l'esempio voi lo date sempre l'esempio alla vostra organizzazione vi comportate sempre nel giusto modo cosa fate cosa dite alla vostra organizzazione quando c'è da dare l'esempio a livello pratico nella vostra attività di network marketing con gli ospiti che ne so i bonus cioè voi vi fate vedere in prima linea o rimanete sempre dietro le quinte vi fate sempre vedere ci mettete come a scuola come quelli gli acchieroni no quelli che studiavano di meno a scuola sempre funzionato così è che si mettono nei banchi dietro in fondo a far casino siete quelli che si mettono davanti o rimanete dietro perché raga se volete diventare i numeri uno dovete abituarvi a dare l'esempio in questo momento in questo periodo specifico bisogna menare di brutto nel senso che bisogna stare sul pezzo bisogna raddoppiare gli sforzi bisogna dargli giù pesante in termini di motivazione in termini di azione di tutto voi lo state facendo voi che ambite a diventare i numeri uno nell'industria network marketing voi veramente o volete diventare i numeri quello che fate nella vita voi vi preoccupate di dare la vostra essenza proprio al massimo la creme della creme ogni volta di tutto quello che potete dare voi vi preoccupate di dare il meglio di voi stessi ogni volta sì oppure no perché se lavorate al 50 per cento e se ogni tanto fate come vi pare raga non è quella la strada giusta non è quella la strada giusta io sta roba la senti dire dal mio ex corona ambasciatore di amway max schwarz leader della madonna c'è un personaggio mostruoso e detto io devo essere io ho sempre lavorato in testa con l'obiettivo di essere il migliore della mia organizzazione il numero uno della mia organizzazione un bravo leader non può essere il numero due della sua organizzazione un bravo live un bravo leader è un leader di tutto rispetto deve puntare ad essere sempre comunque il numero uno in assoluto della propria organizzazione organizzazione di lavoro cioè avete capito diventa veramente importante poi capire tutta sta roba soprattutto nel mondo del network marketing altra roba guardate in tre minuti la roba che ho tirato fuori portiamo a casa il risultato per il paese ha trasmesso la causa cioè perché stiamo qui a fare sta roba perché dobbiamo portare risultati per il nostro paese che sta soffrendo voi riuscite a trasmettere la visione la determinazione voi aiutate i distributori vostri collaboratori a ricordare perché fanno quello che stanno facendo il perché è fondamentale l'ho messo pure nel mio corso apprendista nei primi video nei primi moduli c'è il discorso di valutare il perché anche vi parlo di queste cose cioè voi le fate presenti tutte queste cose cioè molto importante ragazzi dovete trasmettere la causa se qualcosa non funziona si risolve niente è impossibile anche questa roba che ha comunicato è estremamente importante se qualcosa non funziona si risolve si parla si affronta con serenità con tranquillità cioè è molto importante che c'è amore voglio dare un bacino scusate è rientrato il mio patocomento papà ci stavo io sul divano va bene amore non so che ci stavi tu sul divano però posso finire di parlare con questi scalmanati no tanto ho finito mi mancano mi manca poco mi dai un bacino me lo dai un bacino aspetta è già stato per stare aspettate un attimo ragazzi che è rientrato il mio patatone a patatone aspettare va fai un bacino a patatone vai dammi bacino ok mazza ti sei bello scalmanato oggi sei sudato cioè ci sarà pure la temperatura a meno 87 fuori però è sudato che c'è la la russia assurdo quindi stavamo dicendo se qualcosa non funziona pure commercialista mi sta scrivendo ragazzi tutti ragazzi io entro in live ragazzi credibile allora vi stavo dicendo se qualcosa non funziona si risolve niente è impossibile voi riuscite a trasmettere questa forza questa sicurezza ogni volta la vostra organizzazione pensateci voi riuscite a trasmettere tutta questa sicurezza ai vostri niente è impossibile e se qualcosa non funziona si risolve cioè questo è un messaggio in questa frase c'è veramente tutto ragazzi c'è veramente tanto da imparare da quell'intervento fatto da guido bertolaso reglame il possesso della zona comfort sì sì assolutamente quindi in tre minuti scarsi ha trasmesso tutto quello o quasi quello che un leader dovrebbe trasmettere alla propria organizzazione ai propri compagni di lavoro ai propri collaboratori che guardate ragazzi diventare leader non è un gioco non si diventa leader se vi leggete due tre libri non diventate leader se vi comprate apprendista non comprate non diventate leader se vi comprate tre corsi ragazzi cinque corsi dieci corsi cioè dovete fare poi esperienza le cose che imparate tutte le cose che vi vengono insegnate poi vanno messe in pratica dovete fare esperienza la dovete maturare la dovete maturare sul campo io la chiamo così poi ovvio che anche e soprattutto online ok nel senso che poi dovete passare all'azione dovete confrontarvi con le persone dovete mettervi alla prova all'atto pratico perché diventare leader è un viaggio non si diventa leader con due mesi tre mesi quattro mesi poi in realtà c'è chi è più portato e chi è meno portato perché questo pure è vero però il viaggio della leadership della crescita personale dura tanto dura una vita e secondo me è infinito perché c'è sempre da imparare c'è sempre da migliorarsi c'è sempre da da prendere dettagli cose c'è tipo io ogni volta come lo vedete chi mi segue lo sa io ogni volta che vedo che qualcosa anche fuori e soprattutto fuori dal mondo del network perché così capita meglio che succede qualcosa vedo qualche intervento che può esservi utile io prendo immediatamente spunto e ve lo riporto perché so che può esservi di aiuto e di stimolo e personalmente in questo fantastico intervento di Guido Bertolaso di soli tre minuti cioè vi ho tirato fuori dieci punti che se riuscite a comprenderli e se riuscite veramente ad esserne consapevoli di tutta sta roba la vostra attività di network marketing la vostra vita in generale migliorerà migliorerà e per non calcolare anche il fatto che Guido Bertolaso c'ha il covid 19 gli ha preso pure il coronavirus cioè lui è sul campo col coronavirus esempio nell'esempio dell'esempio come possiamo riportare questa cosa adattarla alla nostra attività di network marketing ogni volta che noi abbiamo difficoltà non dobbiamo fermarci ma non dobbiamo fermarci non tanto per noi non dobbiamo fermarci se vogliamo essere dei leader per dare cioè dobbiamo pensare ai nostri collaboratori non dobbiamo fermarci per i nostri collaboratori noi dobbiamo preoccuparci di dare l'esempio ai nostri e ogni volta dobbiamo dare il meglio di noi stessi perché se puntiamo a lavorare in questo modo se puntiamo veramente a lavorare su questi livelli poi è ovvio che fate qualifica fate cash entrano i soldi potete fare tutto quello che volete nella vita raggiungerete successo però bisogna veramente essere consapevoli di tutta sta roba che vi ho detto in questi 30 minuti di diretta super concentrata ripeto queste cose vanno applicate dovete ripetere queste informazioni dovreste guardarvi le mie dirette le mie live più volte perché questi concetti vi devono entrare in testa pure nel corso apprendista ne parlo sempre non basta farvi tutti gli studenti lo dico anche nel corso non basta che vi finite di leggere se finite di studiarvi il corso una volta e poi state a posto così il corso ve lo dovete studiare almeno due tre volte minimo due tre volte e non in un mese due tre volte in tre mesi deve essere spalmato lo studio infatti gli studenti che si sono finiti apprendista nel giro di tre giorni che si sono messi lì davanti si sono massacrati si sono fatti apprendista in tre giorni mi hanno fatto un po preoccupare perché va bene la fame di sapere però ci sono troppi contenuti dentro apprendista che vanno assimilati con un minimo di di calma ok tanto stiamo quarantena forzata ragazzi ok quindi cercate di ripetere di dare continuità a tutti questi discorsi di non applicare queste cose una volta si eccentono le dovete applicare almeno per un anno due anni di fila consecutivamente perché tanto ogni sei mesi più o meno morite e rinascete un'altra volta è così ogni sei mesi moriamo il nostro io vecchio muore e ne nasce uno nuovo sulla base sulle fondamenta delle informazioni prese nuove nei sei mesi precedenti perché è così per quello le informazioni vanno ripetute perché si cambia in continuazione si nasce e si muore in continuazione ad ogni problema dobbiamo trovare una soluzione sembra banale ma serve un mindset pazzesco assolutamente sì questa è proprio una lezione che vi ho fatto sul mindset e sull'atteggiamento per quello vi dico condividetele coi vostri fatele vedere questi filmati questi training che trovate sul canale youtube registrati vi attivate la campanellina perché queste cose le pubblico in continuazione cioè ormai sono anni che sto lavorando online a darvi info con la pala gratuita perché ve ne do fino adesso fino a prova contraria vi ho dato più cose gratuite che cosa a pagamento perché a pagamento ci sono l'apprendista il resto avete ore e ore e ore di training di ragionamenti di formazioni di confronti con me sul blog e sul canale youtube sfruttateli siate intelligenti io poi raga queste cose le dico per voi ripeto ma poi il grosso rimane a voi ci aspetta a voi mettere in pratica quello che vi insegno quello che vi dico così ok ragazzi detto questo finito questo training importantissimo sul su queste dieci cose che ci ha insegnato guido bertolaso la leggenda della protezione italiana ok della sicurezza italiana nel discorso che ha fatto di soli tre minuti allucinante proprio per concretezza e tanto altro ragazzi that's it inserire una routine di informazioni di apprendimento difficilissimo ma sicuramente produttivo sì federico è assolutamente difficile dici cose giuste hai detto bene è difficilissimo mettere nella vita di tutti i giorni fare una routine quotidiana inserire nella vostra routine quotidiana queste azioni cioè prendere informazioni fare apprendimento leggervi audio video federico e per tutti gli altri purtroppo è proprio per questo motivo che non tutti hanno successo proprio perché è difficilissimo e sono pochissimi quelli che poi veramente si mettono lì a studiare si mettono lì a fare le cose a dare continuità sono pochissimi siamo pochissimi voi dovete soltanto scegliere perché voi potete farlo voi avete il potere di farlo ma dovete decidere di essere delle persone straordinarie e di diventare di decidere di diventare dei leader straordinari quindi di fare le azioni che servono per diventare quella cosa che volete diventare oppure decidere di fare una volta ogni morta di papa e di vivere la giornata e quel che sarà sarà io ve lo sconsiglio di vivere in questo modo io vi consiglio di prendere delle decisioni in questo periodo della nostra vita in modo particolare perché siamo in quarantena perché un periodo difficile perché arriveranno periodi difficili perché questo è solo l'inizio del periodo difficile vi consiglio da adesso di iniziare a fare le cose fatte come si deve e da adesso di iniziare a comportarvi da leader autorevoli da leader veri perché fidatevi che ci sarà solo che da guadagnarci tutto questo e la vostra vita ne beneficerà fidatevi ok dai ragazzi sto leggendo i vostri commenti grazie daniela grazie laura ok ragazzi quindi fate tesoro di queste informazioni applicatele date continuità a tutte queste cose che vi insegno fidatevi perché la vostra vita cambierà e in meglio va bene da riccardo di casparo è tutto signori registratevi al canale youtube ovunque attivate la campanellina delle notifiche sempre ci vediamo alla prossima diretta e come sempre su tutti i miei canali di comunicazione online buona giornata a tutti ciao